L'ospite di questa sera è stata definita un maestro dell'horror. Incident in a Ghostland è sicuramente il più personale dei suoi lavori. Cos'è successo a lei e sua sorella quando eravate piccole? Abbiamo rotto tua sorella e adesso tocca a te. Apri la porta! Aiuto! No! Mi vuoi lasciare qui a morire da sola? No! 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 Grazie a tutti.